Ciao ragazzi bentornati su Unbox Italia, iscrivetevi al canale perché vi porto sempre dei contenuti strepitosi e lasciate un bel like se iPhone 13 Pro vi piacciono. Sono qua con 13 Pro e 13 Pro Max, hanno tecnologie evolute, superano i limiti del possibile dice Apple, chip a 15 bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone, motore di fotocamere Pro più evoluto di sempre, tre nuovi obiettivi e per la prima volta su iPhone la fotografia macro. Ma iniziamo con l'unboxing del 13 Pro versione Gold. Wow ragazzi il gruppo fotocamere è enorme, enorme, non so se mi piace. Dentro il classico contenuto della scatola di iPhone 13. Qui un bel focus sulle fotocamere, che direi è d'obbligo vista l'importanza che gli dà Apple. Sì, sono veramente grossissime questa volta, proprio dei cannoni. Proprio molto molto grandi. Beh, quel telefono diciamo che oro è proprio il suo, dà proprio l'idea di qualcosa di molto molto caro. E adesso l'unboxing dell'iPhone 13 Pro Max azzurro Sierra, quello che tutti aspettano, il colore più ordinato dell'anno. Ti serve un consiglio tecnologico? Magari che riguarda Apple? Vuoi darmi un'idea per il prossimo video? Vuoi iscrivermi? Da oggi Unbox Italia è su WhatsApp. Abbonati al mio canale YouTube Unbox Italia per ricevere il mio numero. E anche tu potrai iscriverti direttamente con me. Questo è soltanto uno dei tanti vantaggi per chi si abona ad Unbox Italia. E tu, cosa stai aspettando? Abbonati ora e scrivimi. Un bel focus sulle fotocamere, perché anche queste sono veramente enormi. E poi il colore. Il colore dal video sembra più lilla, ma in realtà dal vivo è più azzurro. Molto bello? Non lo so. Penso che lo capirò mentre farò questo video, se mi piace oppure no. Perché l'unboxing, ricordiamoci che avviene in tempo reale. È tutto estemporaneo su questo canale. Allora, andiamo a prendere anche il nostro colore oro, sapendo che esiste anche argento e grafite. 128 GB, sì, si parte da 128, 256, 512, la novità che è un terabyte. Profili in acciaio inossidabile, resistono alle abrasioni e alla corrosione. Design con i bordi piatti, l'abbiamo già visto, vetro posteriore opaco e quattro splendidi colori. Vetro robusto, Ceramic Shield, dunque resistenza all'acqua, anche i P68, perciò nessun problema per i liquidi. iPhone 13 Pro, questo oro, offre un'ora e mezza di autonomia in più rispetto al 12 Pro, mentre il 13 Pro Max offre 2,5 ore in più rispetto al 12 Pro Max. Dunque il 13 Pro Max ha più autonomia di ogni altro iPhone. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici e da 6,7 pollici. I più luminosi di sempre, all'aperto, raggiungono i mille nit di luminosità. Finalmente abbiamo la tecnologia ProMotion, che adatta refresh rate in modo intelligente. Lo aumenta quando bisogna scorrere le pagine web, guardare i video o giocare in modo più fluidi, altrimenti lo riduce per risparmiare ovviamente la batteria. E qui abbiamo due bellissime cover di Mugio, che sono in pelle per iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max. Quella di iPhone 13 è notevole in questa pelle color cuoio. Sapete che Mugio fa dei prodotti di qualità, dei packaging molto interessanti, tra l'altro, e sono anche delle cover di cui si parla bene, come per esempio Cult of Mac o Forbes. Beh, andiamo anche ad unboxare questa cover qui, che integra già anche un wallet, se ci pensiamo. Adesso lo vediamo un po' meglio. Eccolo qui, molto molto grande, il foro fotocamera è veramente un cratere. E le vediamo nel dettaglio, dove qui abbiamo la nostra scrittina Mugio. Abbiamo i fori qua sotto, fatti su misura, anche qua dietro, dove abbiamo il panno Mugio 1738. Veramente delle cover fatte bene, fatte veramente bene. I tasti sono sempre in pelle in rilievo. Il foro qui presente per mettere in modalità silenziosa, dunque vibrazione, e poi una parte rialzata, proprio perché le fotocamere sporgono, e queste sono cover che aiutano non poco. Poi questa che è la cover di Mugio più interessante. Questa volta il vano per le carte è fatto così. Eccolo qua, il certificato di autenticità. Veramente carina. Non so se la videocamera riesce a riprendere questa scrittina qui. Mi devo aiutare con il dito, perché purtroppo nero manda in confusione il tutto, però è molto molto ben fatta. Qui abbiamo i nostri tastini, sempre in rilievo. E comunque il foro fotocamera, anche questo, che sborda non di poco, perché le fotocamere sono veramente molto molto grosse quest'anno. Più grosse dello scorso anno. Non credevo che si potesse fare di più. Comunque due cover consigliate se vi piacciono i prodotti in pelle. Appunto cover di Mugio. Davvero niente niente male. Il chip è la 15 Bionic. Lo stesso di iPhone 13? No. Nel senso che è il più veloce mai visto su uno smartphone. Perché, ok, ha sempre la CPU a 6 core, 2 performance core, 4 efficiency core, ma ha una GPU rispetto all'iPhone 13 a 5 core, anziché 4. Ok? Questa è una grande differenza. Rende la grafica ancora più scattante rispetto a 13. Immagini che bucano lo schermo, effetti luce, solite cose. Neural Engine a 16 core per il machine learning. Solita storia. Fotocamera True Depth con Face ID, 20% più compatta rispetto a prima. Ricordiamoci che abbiamo un notch differente. Tre nuove fotocamere e il più grande upgrade di sempre per le fotocamere di Apple. Adesso accendo intanto questo per mostrarvi il notch. Nuovo ultra grandangolo, grazie al quale arriva la fotografia macro su iPhone. Nel senso che si può mettere a fuoco appena a 2 cm di distanza dal soggetto e catturare così ogni minimo dettaglio. Ed ecco qui intanto il notch più stretto, ma un pochino più profondo. Poi, ultra grandangolo. Ha un diaframma con ampia apertura f1.8 e autofocus. Cattura il 92% di luce in più. Teleobiettivo, una lunghezza focale di 77 mm e zoom ottico 3x. Dunque una portata maggiore in quadratura più strette. Grandangolo invece cattura anche lui più luce. Fino a 2,2 volte in più rispetto all'iPhone 12 Pro e una volta e mezza in più rispetto al 12 Pro Max. E questo ci dà migliorie quando c'è poca luce. Modalità cinema, anche questa, automatica, cambi di fuoco di profondità di campo. Potete modificare anche l'effetto bokeh e la messa a fuoco dopo aver filmato. Registrazione video ProRes per un formato video altissimo come qualità. Dunque a livello professionale, anche se questa è una funzione che arriverà prossimamente. Anche qui stili fotografici, dico anche qui perché ho già fatto il video di iPhone 13 che dicevo le stesse cose circa, dove ci sono. Smart HDR 4 per migliorare automaticamente il colore, il contrasto di luce dei soggetti nella stessa foto. Modalità notte disponibile su tutte le fotocamere, sia davanti che dietro. Anche qui stessi accessori MagSafe, connettività 5G con altri 200 operatori e dunque sim fisica e anche e-sim. Un focus su quelli che sono i dettagli invece, ripresi da vicino, di iPhone 13 Pro Max. Tiamo vicino anche il 13. Guardate come si prendono di impronte in maniera terribile. Gruppo fotocamere veramente importantissimo. Molto, molto grande. Ecco qua. Non male. Adesso vi mostro ancora una cosa. Ecco cosa mettiamo qua vicino. Il 13 e il 13 Pro. Cosa vedete? Esatto. Il gruppo fotocamere più grande. Questo cosa vuol dire? Niente più cover identiche. Sì, perché le cover di iPhone 13 non vanno sulle 13 Pro. Vedete il perché? Gruppo fotocamere ha un quadrato più grande. Perciò non vanno bene. Anche qui vi mostro un'altra differenza. Per esempio il vano sim è posto a un livello differente. Piccoli dettagli, insomma. Piccoli dettagli. Dall'altra parte invece sembra essere tutto uguale. Beh ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi ad Unbox Italia. E se volete anche abbonatevi al canale per scrivermi qualche richiesta di consiglio. Magari siete indecisi. E così potete scrivermi direttamente su WhatsApp. Noi ci vediamo sempre qui con dei nuovissimi video. Non perdetevi. Attivate la campanellina. Ciao. Noi ci vediamo sempre. 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 Grazie a tutti